È diventato un allarme annuale. In Italia i reati ambientali non si arrestano e l'abituale radiografia del rapporto di Lega Ambiente lo conferma. Purse in calo rispetto agli anni precedenti, restano sempre superiori ai 30.000 i reati ambientali registrati nel 2021 e il 44% si concentra nelle regioni meridionali con presenza mafiosa. Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Se è la provincia di Roma la prima per reati ambientali, in Campania ne sono stati registrati quasi il 14% del numero totale. Emblematica per la singolarità della vicenda, la condanna del Tribunale di Napoli nel marzo scorso che ha fissato pene fino a sei anni per la pesca e la vendita illegale di datteri di mare. Sono rimaste coinvolte due famiglie impegnate per 20 anni in questa attività nel Golfo di Napoli. Ma come sempre, sono le indagini e i reati legati al ciclo e allo smaltimento dei rifiuti quelli di maggiore peso. La provincia di Napoli resta terza, dopo Roma e Cosenza. Naturalmente sono evidenziati i dati dell'isola d'Ischia sull'abusivismo con 600 case colpite da ordinanza definitiva di abbattimento. Cemento illegale, ciclo dei rifiuti, le maggiori emergenze segnalate dal rapporto, dove si legge che Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, le quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa, subiscono il maggiore impatto di eco-criminalità e corruzione. In queste quattro regioni sono concentrati un terzo degli illeciti amministrativi e più della metà delle inchieste per corruzione ambientale sul totale nazionale.